Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Sapete quanti commenti ho ricevuto sotto Pillole e Aperistoria da quando abbiamo iniziato? E non lo so, non ne ho una più fallida idea, ma ho stimato che siamo all'incirca oltre i 100.000 commenti. Talvolta commenti interessanti, commenti che aggiungevano parte alla narrazione, complimenti, a volte discussioni, assolutamente è giusto che ci siano, talvolta commenti molto molto strani. Perché ovviamente i video storici attirano anche una nutrita fauna di persone con idee storiche quantomeno particolari, quantomeno un po' strambe. Tra questi, probabilmente quelli che a me personalmente danno maggiormente fastidio sono i cosiddetti negazionisti dell'Olocausto, cioè coloro che sostanzialmente negano l'esistenza dell'Olocausto, negano che i nazisti abbiano in qualche modo perpetrato uno sterminio di massa di ebrei, rom, disabili, slavi, e che tutto questo, loro affermano, sia in realtà una gigantesca invenzione, ovviamente frutto degli ebrei, perché sempre poi loro è la colpa, una gigantesca invenzione degli ebrei che è stata fatta per creare una specie di mito che li giustificasse nelle loro azioni. Tra le varie motivazioni che vengono adotte da questi figuri, che sono sempre abbastanza disturbati nei loro commenti, ma ripeto questo rimane un pensiero mio, c'è il fatto che secondo loro una delle dimostrazioni che non vi siano state veramente queste persecuzioni è il fatto che non ci furono delle fughe di massa, che quando i nazisti iniziarono ad utilizzare le loro tecniche per deportare e poi massacrare queste popolazioni, non ci furono delle fughe da parte di questi popoli che fuggirono, abbandonarono questi stati per andare in altri. Ecco, questo punto è assolutamente falso, perché dei tentativi di fuga ce ne furono parecchi, talvolta organizzati in piccoli gruppi, talvolta organizzati alla belle meglio, semplicemente prendendo e provando a lasciare il proprio paese, talvolta furono tentativi di fuga più organizzati, ma che fossero organizzati o che non lo fossero, si trattava sempre di tentativi molto difficili, che portarono delle persone a mettere in gioco tutto, anche la loro vita, per cercare di lasciare quei paesi. Ecco, oggi racconteremo la storia di uno di questi tentativi di fuga, un tentativo di fuga fatto utilizzando una nave, che vedrà 300 ebrei abbandonare le loro case di Bratislava per cercare di mettersi in gioco lungo il Danubio per cercare di scappare. Un viaggio che, come vedremo, non sarà facile, sarà pieno di rischi, sarà pieno di persone che cercheranno di rimandarli indietro laddove il loro destino era probabilmente segnato, e di persone che, forse agendo nel giusto, faranno quello che appunto avrebbero dovuto fare, quello che avrebbero fatto i giusti e in qualche modo gli aiuteranno. E a sorpresa, tra queste persone che gli aiuteranno, ci saranno proprio gli uomini della Regia Marina, che nonostante l'Italia fosse alleata con quell'Itler che li stava perseguitando, fecero la cosa giusta e furono, vedremo, forse, la salvezza di alcuni di questi uomini e di queste donne. Ad accompagnarmi in questo viaggio, Marco Sciarretta, che parecchi mesi fa mi ha mandato il materiale per questa storia, storia che è praticamente sconosciuta, non la si racconta mai, esiste un libro su questo argomento, ve lo posso consigliare, è stato anche girato un film, ma non sono riuscito a vederlo, non l'ho trovato da nessuna parte, ma teoricamente esiste anche un film di pochi anni fa dedicato a questa storia. Ma noi partiremo invece proprio dalla documentazione che mi ha mandato Marco, che ringrazio tantissimo, e proveremo a raccontarla a nostro modo. Quindi, come sempre, se non siete già iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. La nostra storia inizia nel 1939 a Bratislava, città che oggi è la capitale della Repubblica Slovacca, ma che all'inizio del 1939 faceva parte della Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia era uno stato che era nato alla fine della Prima Guerra Mondiale, unendo una serie di territori diversi, principalmente la Bohemia, la Moravia, e, appunto, la Slovacchia. Uno stato che, per alcuni anni, era stata una anche delle potenze regionali dell'Europa centrale, ma che, alla fine del 1938, era stata, come dire, azzannata dai nazisti. Nazisti che, con la compiacenza delle potenze occidentali, il famoso Accordo di Monaco, erano riusciti a strapparle una parte, cioè, appunto, i sudeti. Come, penso, tutti voi sappiate, in realtà i nazisti non si accontentarono di quello, e nel marzo del 1939 decisero di invadere quello che rimaneva della Cecoslovacchia, in particolare la Bohemia, fino ad occuparne la stessa capitale, il 15 marzo 1939. A questo punto, il destino della Cecoslovacchia fu segnato. La parte occidentale, cioè, appunto, la Bohemia, la Moravia, i sudeti che erano già stati occupati, divennero parte del Terzo Reich, una parte annessa, una parte trasformata nel protettorato di Bohemia, che era un protettorato, ma non aveva, ovviamente, nessuna possibile autonomia, era gestito in toto dai nazisti. La parte più orientale, invece, quello che, grosso modo, oggi è la Repubblica Slovacca, divenne, appunto, la Slovacchia, uno stato, teoricamente autonomo, gestito da un proprio governo, ma che, a tutti gli effetti, agiva come un vero e proprio stato, gestito da lontano dai nazisti, e ne seguiva, ovviamente, le regole. Quando tutto questo avvenne, quelle persecuzioni, quelle violenze, che già all'interno dei territori del Terzo Reich, che erano iniziati contro gli ebrei, i rom, contro gli disabili, vennero, ovviamente, estese, insieme alle leggi che lo permettevano, anche a questi territori, ed iniziarono, seppur, ovviamente, in Slovacchia in forma leggermente più attenuata, ad avvenire anche in queste zone. Ora, non c'erano ancora, nel 1939, i campi di concentramento, questo mettiamolo in chiaro, la nascita dei campi di concentramento che stermineranno milioni di persone con uno stile, come dire, industriale, se mi passate il termine, scientificamente terribile, bene, quei campi di concentramento, fortunatamente, non esistevano ancora, ma le persecuzioni esistevano già, esistevano già le violenze, esistevano già le deportazioni di popolazione, addirittura esistevano già alcuni campi in cui alcune popolazioni venivano internate temporaneamente per poi decidere che cosa farne, campi in cui, ovviamente, le loro condizioni di vita erano tutto fuorché ottimali. Di fronte a questa situazione, e di fronte al timore che la cosa potesse, ovviamente, peggiorare, iniziarono ad organizzarsi, quindi, dei primi viaggi, dei primi viaggi in cui delle persone ebrei che vivevano in Ciecoslovacchia, ma anche in stati vicino, decisero di lasciare le loro case per cercare di fuggire. Come vi dicevo nell'introduzione, questi viaggi erano però difficili, era difficile trovare i permessi, era difficile trovare un modo per lasciare quei paesi, e molto spesso erano costosi. E queste persone, che si trattasse di singoli, che si trattasse di famiglie, che si trattasse magari di piccoli gruppi che si erano organizzati, molto spesso finivano nelle mani di avvoltoi, che avendo fiutato la possibilità di guadagnare dei soldi, magari promettevano loro dei viaggi, promettevano loro un futuro sicuro al di fuori dell'Europa, e poi li abbandonavano dopo aver rubato loro tutto il denaro. Per cercare di organizzare dei viaggi che invece fossero reali, decisero di intervenire alcune organizzazioni ebraiche al di fuori dell'Europa, a cominciare da quelle americane, che fin dal 1938-1939 avevano iniziato a lavorare affinché una parte più possibile degli ebrei europei potessero lasciare le loro case, per lasciare quegli stati in cui erano iniziate le persecuzioni e raggiungere stati, potremmo dire, più tranquilli. Ora, l'idea di portarli negli Stati Uniti, anche se ad alcuni era stata avanzata, si scontrava contro una serie di problemi. Innanzitutto problemi di costi, spostare qualcuno dall'Europa agli Stati Uniti non potendo utilizzare gli aerei era molto complicato, e pensare di organizzare dei viaggi nascosti attraverso tutto l'Atlantico ancora di più, anche se di questi viaggi ce ne furono. In passato abbiamo anche dedicato una pillola a questi avvenimenti, ve la metto magari in descrizione, una delle primissime pillole. Inoltre questi viaggi avevano la difficoltà che le autorità statunitensi non erano così propense a concedere a questi uomini e a queste donne l'accesso negli Stati Uniti. Ma il loro accesso avveniva esattamente come quello di tutti gli altri immigrati, senza preoccuparsi del fatto che provenissero da una zona in cui ovviamente la loro vita era minacciata. Per questo le associazioni che riuscirono ad organizzare i più viaggi e che riuscirono a raccogliere anche maggiori consensi furono le cosiddette associazioni sioniste, cioè delle associazioni che erano nate alla fine del XIX secolo e che volevano che gli ebrei tornassero a stabilirsi in Palestina. Ora, la Palestina nel 1939 era gestita dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, che aveva ricevuto alla fine della Prima Guerra Mondiale il mandato, si chiamavano proprio così, per gestire quella zona. Un mandato che a tutti gli effetti, potremmo dire molto semplificando, aveva trasformato la Palestina in una colonia gestita proprio dagli inglesi. Bene, gli inglesi erano assolutamente contrari a queste politiche di immigrazione ebraica e cercavano in tutti i modi di bloccarle, non concedendo visti, non permettendo alle navi di attraccare e addirittura respingendo queste navi e rimandandole indietro affinché non attraccassero. Questo perché gli inglesi avevano capito, e su questo bisogna daregli reatto, ebbero poi ragione, che un aumento della popolazione ebraica avrebbe potuto portare a degli scontri con gli arabi palestinesi di presenti, con gli ebrei che tornavano in quella che consideravano la loro terra natale, che però avevano magari abbandonato da millenni, e i palestinesi, che intanto erano i residenti, che ovviamente si sentivano defraudati delle loro terre. Una cosa che, come sapete, è avvenuta, e a questo abbiamo dedicato tutta una serie di pidone, negli scontri tra arabi e palestinesi. Ad ogni modo, questo ovviamente rendeva molto difficile organizzare questi viaggi, perché bisognava non solo lasciare una zona in cui gli ebrei, ovviamente, erano tutto fuorché amati e tollerati, bisognava attraversare un lungo tratto di territorio difficile, in cui anche qua gli stati non è che fossero così vicini alla popolazione ebraica, e poi bisognava trovare un modo, ovviamente, nascosto per raggiungere la Palestina senza farsi bloccare dagli inglesi. Per poter fare questo lungo viaggio, la via che venne sfruttata di più fu la via d'acqua. Una via d'acqua che, partendo dall'Europa centrale, utilizzava quella gigantesca autostrada acquatica che è il Danubio, raggiungeva il Mar Nero e poi, costeggiando le coste della Turchia, arrivava fino in Palestina. Una via d'acqua che era pericolosa e in cui si stimava che circa metà di coloro che provavano a partire in Palestina non ci sarebbero mai arrivati. E una volta lì, ovviamente, poi bisognava cercare di entrare di nascosto dagli inglesi. Rispetto al rischio di essere deportati dai nazisti, però, anche solo quella possibilità su due era praticamente orocolato. E' proprio in questa situazione che, quindi, entra in gioco la nostra storia. Entrano in gioco i battelli di cui parliamo. Perché? Perché, ovviamente, all'inizio queste associazioni iniziarono a cercare di affittare delle navi che già percorrevano la rotta del Danubio. Navi che, però, non erano attrezzate per trasportare così tanti passeggeri e, quando lo erano, molte volte non amavano questi tipi di trasporti che molto spesso erano resi difficoltosi dagli stati rivieraschi che ponevano tutta una serie di problemi a questi viaggi. Ad un certo punto, non riuscendo più a trovare come alimentare questa rotta che riuscirà a portare via parecchie centinaia di ebrei, ad un certo punto si decise, quindi, di acquistare direttamente un battello. Il battello prescelto, che venne acquistato per circa 10.000 dollari, si chiamava Stefano ed era un battello fluviale a pale, battente bandiera bulgara. Poi la storia era un po' più complessa, perché in realtà era di proprietà di una ditta con sede in Grecia, ma con capitali anche italiani, insomma, una classica storia un po' complessa, ma in qualche modo il battello teoricamente batteva bandiera bulgara. Il battello, però, serviva appunto per trasporti fluviali su brevi tratte e non era quindi attrezzato a portare per lungo tempo molte persone, tantomeno a portare con sé un gran numero di provviste, e per questo fu necessario modificarlo e riadattarlo, oltre che rimetterlo in funzione a pieno regime, dato che pare che le condizioni a momento dell'acquisto fossero a dir poco pessime. Saranno quindi investiti altri 5.000 dollari, e ci vollero parecchi mesi perché finalmente i lavori fossero portati a termine, ma finalmente nel gennaio del 1940 il Pencio, perché intanto era stato rinominato da Stefano a Pencio, termine che pare, secondo le fonti, che sia di origine bulgara, ma non ho trovato da nessuna parte che cosa voglia dire, quindi se qualcuno ha origini da quelle parti o lo sa e vuole scriverlo, grazie, così riusciamo ad aggiungere l'informazione. Ad ogni modo, nel gennaio del 1940, finalmente il Pencio era pronto a navigare. Ovviamente serviva anche fornirlo di marinai adatti, e anche in questo caso venne raccolto un po' quello che si trovava, a cominciare dal Capitano, che pensate era un esule russo fuggito dopo la Rivoluzione, per questo rimasto a Poline, quindi senza una patria, che era noto per alternare eccessi di ira completa a fasi in cui era difficilmente responsivo. Questo forse anche perché era un noto morfinomane, e questo sicuramente non aiutava né il suo umore né a stabilizzarlo. Insieme a lui c'era la moglie e c'erano altri quattro marinai, quasi tutti di etnidi o di origine bulgara. Ad ogni modo, quando la nave fu pronta, nel gennaio del 1940, ci furono però altri problemi, a cominciare dal fatto che a gennaio il Danubio all'epoca non era quasi navigabile a causa del ghiaccio, e fu così necessario rimandare il viaggio fino alla primavera dopo, fino al maggio del 1940. Intanto, come potete immaginare, le cose erano cambiate. La Germania nazista nel settembre del 39 aveva invaso la Polonia, aveva iniziato la sua opera di sterminio in Polonia, e questo aveva spinto gruppi di ebrei a fuggire dalla Polonia verso sud, e alcuni dei quali aggiungere anche proprio a Bratislava. Per questo, quando nel maggio del 1940, finalmente il Pencio arrivò a Bratislava, non caricò solamente ebrei provenienti dalla città, ma anche ebrei provenienti dalla Polonia. E i documenti? Perché, lo abbiamo detto, l'altro grosso problema era i documenti. Non potevano dire di stare andando in Palestina, perché non avrebbero avuto ovviamente il visto. Erano però riusciti a procurarsi dei documenti grazie all'ambasciata paraguaiana, che probabilmente, grazie a qualche bustarella, aveva procurato ad ognuno degli uomini e delle donne che sarebbero partiti col Pencio, un visto per il Paraguay. E ufficialmente, anche se ovviamente guardando la nave era difficile crederlo, quella nave avrebbe dovuto percorrere il Danubio, entrare nel Mediterraneo, e da qui portare tutti questi uomini e queste donne fino in Paraguay. Era ovviamente impossibile, ma questa è un'altra storia. Voi mi direte, poi il Paraguay neanche confina col mare, non ha neanche uno sbocco sul mare. Non preoccupatevi. Finalmente, il 19 maggio 1940, la nave partì. Sulla nave c'erano all'incirca 300 ebrei, dei quali la maggior parte cercò di nascondersi sotto coperta, perché si doveva cercare ovviamente di non dare nell'occhio, e proprio per questo la parte inferiore della nave era stata riattrezzata per contenerli tutti, altri 16, invece coloro che avevano conoscenze di mare, di navigazione fluviale, si unirono alla ciurma, divenendo a tutti gli effetti dei marinai, molto spesso mascherandosi proprio per mischiarsi agli altri marinai. Il capitano, Igor Marchievich, diede l'ordine di partire e finalmente la Pencio riuscì a lasciare i suoi ormeggi e a partire lungo il Danubio. La prima fase del viaggio fu abbastanza regolare, venne raggiunta l'Ungheria, due giorni più tardi della partenza venne superata Buda e la prima vera sosta avvenne al confine tra l'Ungheria e la Jugoslavia a Moax. Secondo quanto si racconta, quando venne annunciato ai passeggeri della nave che finalmente stavano per lasciare l'Ungheria, i passeggeri, che di fronte a loro stavano arrivando alle coste di Jugoslavia, i passeggeri si erano spostati tutti insieme verso il lato della nave dove vi era appunto la costa di Jugoslava, il lato destro, e questo aveva provocato un ondeggiamento della nave stessa che era stata notata dalle motovedette ungheresi che avevano a quel punto costretto la nave a fermarsi e l'avevano bloccata a Moax per cinque giorni. Quella sosta in realtà era stata abbastanza utile perché non solo erano riusciti a rifocillare, raccogliere nuove provviste, a prepararsi per il seguito del viaggio, ma addirittura avevano imbarcato qualche nuovo passeggero, tra cui un giovane proveniente dalla Polonia che non era arrivato in tempo a Bratislava e che li aveva seguiti poi lungo il corso del fiume, ma anche qualche, alla spicciolata, qualche famiglia, alcune proprio di origini ungheresi, che una volta saputo di quello che stava facendo quel battello avevano chiesto un passaggio ed erano stati caricati sulla nave per poter essere portati verso sud. Teoricamente, mentre si trovavano a Moax, avrebbero dovuto essere raggiunti anche da una settantina di ebrei che erano stati fatti fuggire da un campo di internamento delle SS. Secondo quanto si racconta, infatti, dei mediatori, chiamiamoli così, avevano corrotto alcune SS che stavano trasportando una settantina di ebrei proprio verso un campo e li avevano convinti a lasciarli andare, contando proprio di poterli caricare sulla nave. Purtroppo per loro arrivarono troppo tardi. Quando arrivarono, la nave era già stata fatta ripartire dalle autorità ungheresi che dopo aver valutato a lungo se fosse più pericoloso rimandarla indietro, ovviamente più pericoloso per la navigazione sul Danubio perché si temeva che potesse affondare o più pericoloso mandarla avanti, avevano deciso che forse era meglio farla andare avanti. Ma non permettendogli di aspettare queste settantina di persone, sostanzialmente le condannarono perché quando arrivarono alla nave non la trovarono più e non c'era più nessun passaggio per poter andare. Subito dopo aver lasciato l'Ungheria entrarono nel territorio jugoslavo, territorio che sulla carta doveva essere loro più favorevole perché la Jugoslavia non era legata direttamente alla Germania nazista né l'era alleata, ma che in realtà fin dall'inizio pose sostanzialmente gli stessi problemi. Il 7 giugno infatti, mentre costeggiavano le coste della Jugoslavia, furono raggiunti dalla notizia che un altro centinaio di ebrei li stava cercando di raggiungere, ebrei che già avevano lasciato l'Ungheria, già erano passati in Jugoslavia e che da qui stavano cercando di fuggire perché anche i jugoslavi non sapendo cosa fare di questa popolazione che si spostava molto spesso li prendevano e li portavano in dei campi che erano detti campi di passaggio in attesa di decidere cosa fare ma che molto spesso diventavano dei campi di internamento in cui venivano lasciati in attesa degli eventi. Per queste 100 persone fu una fortuna perché in effetti riuscirono ad imbarcarsi c'erano anche anziani, bambini portando però il numero di persone sulla Pencio che ripeto inizialmente era nata per portare non più di 300 persone a ben 514. Un numero enorme, un numero che peraltro costringeva ormai a stare apertamente anche sul ponte superiore quindi non si poteva più passare inosservato in nessun modo ma che soprattutto iniziò ad essere sempre più notato dalle autorità rivierasche. Ad un certo punto a fermare l'avanzata della nave furono anche i Jugoslavi. Vi era infatti un punto c'è ancora adesso un punto nel Danubio proprio nel passaggio tra Jugoslavia e poi verso sud e Bulgaria e Romania che è detto le porte di ferro che è un punto particolarmente stretto particolarmente tortuoso in cui si temeva che quella nave potesse andare ad incagliarsi bloccando così completamente la navigazione sul Danubio. La stessa autorità di controllo del Danubio che era un'autorità internazionale che gestiva proprio la navigazione diede ordine ai Jugoslavi di fermare la nave farla accostare e cercare di capire che cosa si potesse fare. Per sei settimane si discusse di quello che sarebbe dovuto accadere. Qualcuno proponeva di rimandare la nave indietro qualcuno proponeva di mandarla avanti qualcuno proponeva di svuotare la nave dei suoi occupanti trasferire gli ebrei in un campo di transito in Jugoslavia e mandare avanti la nave per poi decidere cosa fare di questi ebrei così come di tanti altri che erano stati portati in Jugoslavia. Ad un certo punto sembrò che questa potesse essere l'opzione più praticabile tanto che addirittura iniziarono ad organizzare proprio il trasferimento nel vicino campo. Gli ebrei intanto però ovviamente non erano rimasti con le mani in mano. Innanzitutto avevano dovuto organizzarsi perché avevano dovuto procurarsi del cibo avevano dovuto procurarsi da bere ma soprattutto avevano dovuto trovare un modo per convivere in così tanti su quella nave tanto che avevano fatto preso affittato delle piccole chiatte che poggiate fatte sul fiume intorno alla nave venivano utilizzati di notte per poter dormire un pochettino più nel largo. Inoltre grazie a tre medici in realtà era un dentista ma insomma tre medici che si trovavano sulla nave avevano cercato di darle una pulita ma soprattutto avevano cercato di evitare che potessero scoppiare delle epidemie perché provate a immaginare che cosa volesse dire stare in così tanti concentrati in uno spazio così piccolo per tanto tempo. Quando iniziò a giungere la notizia che forse li avrebbero costretti a sbarcare ovviamente si diffuse il panico ma fortunatamente diciamo con un vero e proprio colpo di fortuna improvvisamente le autorità jugoslave cambiarono idea e decisero che la nave sarebbe potuta ripartire avrebbe attraversato alle porte di ferro guidata da un rimorchiatore che l'avrebbe trainata nello spazio più pericoloso ma avrebbe potuto lasciare la Jugoslavia. Mentre avanzano la storia li insegue perché quando entrano nel territorio il confine tra la Bulgaria e la Romania vedono da lontano truppe tedesche che avanzano in territorio rumeno per andare a proteggere i campi petroliferi di Ploiesti. Quando arrivano le autorità bulgare nonostante la nave batta bandiera bulgara non sono però per nulla amiche fanno numerose spezioni si rifiutano di aiutare in alcun modo la nave rifiutano addirittura la nave qualunque possibilità di ormeggio e alla fine dopo aver minacciato di affondarla prendono la bandiera bulgara e se ne tornano indietro sostanzialmente lasciando la nave quasi senza alcuna copertura internazionale. A rifiutare la Prodo sono anche i rumeni e così dopo l'attraversamento delle porte di ferro 6 agosto la nave per parecchi giorni è costretta a navigare sostanzialmente senza cibo senza acqua e soprattutto senza combustibile tanto che ad un certo punto iniziano a bruciare tutto quello che possono nelle caldaie per farla andare avanti ma senza più alcun rifornimento alla fine la nave si deve arrestare e per alcuni giorni gli uomini e le donne sulla Pencio sono costretti a rimanere bloccati nel mezzo del Danubio guardati con molto sospetto da una parte dai bulgari e dall'altra dai rumeni. A questo punto cercano di fuggire qualcuno in effetti inizia ad essere preoccupato che quei nazisti che sono passati sulle spondi e prima o poi possano prendersela con loro inoltre iniziano ad arrivare notizie che in Romania le cose non siano più così tanto favorevoli e in effetti di lì a pochi giorni Iann Antonescu prenderà il potere in Romania strappandolo al sovrano e a tutti gli effetti allineando definitivamente la Romania nell'orbita nazista. In realtà anche in questa volta la nave ha un colpo di fortuna perché nel caos seguente a questo colpo di stato le autorità rumene che probabilmente vogliono evitare di avere qualunque altro problema sul fiume decidono di dare permesso alla nave di ripartire dopo averla raggiunta e averla rifornita per permettere di entrare in porto le permettono di caricare nafta cibo e acqua e rapidamente ripartire e così attraversato l'ultimo tratto di Danubio finalmente la nave raggiunge Sulina alla foce del Danubio e qui è pronta per affrontare il mare beh pronti per modo di dire perché come l'avete capito qua niente può andare per il verso giusto a Sulina infatti vengono bloccati vengono bloccati pensate dalle autorità inglesi dal console inglese che non ci vede così bene sul fatto che questa nave stia andando in Paraguay nonostante in realtà con la nave viaggi una rappresentante del consulato una ragazza paraguaiana ufficialmente rappresentante del consulato del Paraguay ma più volte il console accusa la nave di essere diretta in Palestina ovviamente tutti negano ma i marinai dopo aver sentito un po' puzza di bruciato e probabilmente anche preoccupati del successivo tratto da fare cioè quello in mare aperto un tratto decisamente più difficile rispetto alla navigazione sul Danubio i capitano e i marinai decidono di dileguarsi e così dall'oggi al domani la nave si trova non solo in possibilità da partire ma addirittura senza un vero equipaggio fortunatamente un nuovo equipaggio viene trovato si tratta di alcuni marinai turchi un marinaio rumeno di religione ebraica e tutti insieme insieme ai marinai che erano stati addestrati durante il viaggio lungo il Danubio riescono finalmente a far ripartire la nave le autorità rumene di base sarebbero anche d'accordo con gli inglesi sul fatto che la nave vada in Palestina ma per evitare ulteriori problemi decidono comunque di disinteressarsi della questione e di dare il permesso alla nave di ripartire la fase successiva del viaggio è se possibile ancora più complicata di quella che abbiamo raccontato fino a questo momento perché un battello fluviale peraltro così vecchio non era sicuramente adatto al navigare in un mare per quanto relativamente tranquillo come il Mar Nero con le onde più alte molte più difficoltà e tanto anche perché proprio a causa del fatto di trovarsi in mare con un clima anche diverso le persone che fino a quel momento erano state sul ponte furono costrette a scendere in coperta in questo modo rendendo se vogliamo ancora più complicata la navigazione inoltre la nave ripartita i primi giorni di settembre dalla Romania attraversò molto lentamente il Mar Nero puntando verso i Dardanelli l'attraversamento del territorio turco nonostante ci fossero marinai turchi che avrebbero potuto in qualche modo tradurre fu complicato i turchi rifiutarono qualunque possibilità alla nave di accostare la obbligarono ad attraversare gli stretti in tutta rapidità addirittura giunsero a minacciare di affondarla se avesse anche solo osato avvicinarsi alle coste qualcuno dice che temevano che ci potessero essere delle epidemie ma molto probabilmente ormai la voce di questa patata bollente di passaggio si era diffusa e tutti volevano solo che andasse avanti quando la nave finalmente superò il territorio turco entrò nel territorio greco si vide venire incontro una cannoniera greca che prima le sparò contro questo perché insomma bisognava far subito capire chi si era e quando poi accostò obbligò la nave a fermarsi sull'isola di Lesbo il motivo beh è che la nave non aveva nessuna bandiera e quindi per le leggi greche non poteva navigare beh insomma diciamo pure che poteva andare peggio questo è ovvio si fermarono chiesero della stoffa ai cittadini dell'isola confezionarono alla Bellemeglia una nuova bandiera bulgara come quella che gli era stata rubata proprio dai bulgari e ripartirono e il 30 di settembre arrivarono finalmente al Pireo quando arrivano ad Atene però i greci non sono ovviamente contenti di vederli arrivare curiosamente non ricevono particolare aiuto neanche dalla comunità ebraica della città che già iniziava a sentire un'aria non così positiva e che inizialmente sembrò non interessarsi troppo alla sorte dei correligionari accettando poi di aiutarli di dargli del cibo dargli dell'acqua solo quando questi vennero poi pagati dai rappresentanti dell'associazione sionista che aveva organizzato il viaggio il 3 di ottobre finalmente la nave ripartì e visto che doveva puntare verso Palestina puntò nuovamente verso le coste turche attraversando l'Egeo diretto verso il dodecaneso italiano quindi Rodi il viaggio però iniziava ad essere sempre più complicato la nave ormai era consumata i motori letteralmente non ce la facevano più e nonostante l'operato dei marinai turchi letteralmente non ce la faceva più ad andare avanti tanto che ad un certo punto venne intercettata da delle motovedette italiane che dopo aver capito quale fosse la situazione la scortarono nella più occidentale dell'Egeo e del dodecaneso italiano cioè Stampaglia una volta a Stampaglia le autorità italiane non furono inizialmente così convinte a lasciare proseguire quella nave siamo in un'epoca in cui ovviamente la guerra è già scoppiata gli italiani sono già in guerra il dodecaneso in qualche modo a causa della stretta della marina inglese sicuramente non gode delle più grandi libertà e inoltre il mare che li aspetta lungo proprio le coste della Turchia è spesso interessata da degli scontri aeronavali la Pencio però vuole proseguire i 514 uomini e donne a bordo vogliono andare avanti vogliono raggiungere la Palestina sentono di avere attraversato il pezzo più lungo del loro viaggio non possono più fermarsi quindi nonostante i consigli dell'autorità italiana decidono di ripartire il viaggio però non sarà lungo non sarà lungo perché la caldaia inizia a perdere acqua e quando cercano di utilizzare un misto di acqua pulita e acqua di mare per farla andare avanti questo la danneggia riparabilmente e alla fine la nave senza più possibilità di muoversi si arena su uno scoglio a circa un centinaio di chilometri da Rodi e una cinquantina di chilometri a nord di Creta che cosa fare? è un bel problema perché lo scoglio non ha nulla non ha acqua non ha cibo e quelle 500 persone sicuramente non possono rimanere lì per sempre vivendo solamente di pesca bisogna trovare una soluzione per questo dato che la nave non aveva abbastanza a barchini a remi per tutti si è deciso di prenderne uno e di caricarci sopra cinque uomini tra cui tre marinai turchi i quali sarebbero dovuti partire dirigendosi verso la costa cercando un possibile aiuto il viaggio di questi cinque uomini non sarà lunghissimo quando si saranno avvicinati infatti alla costa verranno intercettati da una nave inglese nave inglese che in realtà stava rientrando verso l'estandria ad egitto scortando il liverpool un incrociatore che era stato danneggiato gli inglesi raccoglieranno i cinque uomini ma in realtà non faranno niente per aiutare la nave e si limiteranno semplicemente ad informare la croce rossa di quello che loro gli avevano riferito e poi a portare gli uomini in egitto ad alessandria ad egitto i cinque uomini si divideranno i turchi torneranno ovviamente in turchia rimpatriati gli altri si arruoneranno nelle brigate cecoslovacche che combattevano per gli inglesi la nave però il pencio era ancora lì era ancora lì sullo scoglio era ancora lì con 509 persone perché 5 non c'erano più 509 persone che lottavano tra la vita e la morte fortunatamente la croce rossa che ovviamente non aveva a disposizione i navi di suo aveva deciso di informare chi oltre agli inglesi si trovava nelle vicinanze cioè gli italiani e dopo qualche dubbio gli italiani a differenza degli inglesi decisero di intervenire prima utilizzarono i loro aerei per capire dove effettivamente si trovasse questa nave perché ovviamente non è che avessero una posizione precisa c'erano le indicazioni dei marinai bisognava capire un po' quale fosse la situazione poi una volta che la ebbero trovata mandarono una nave da trasporto il Camogli che secondo alcune fonti in un viaggio solo secondo altri in due viaggi caricò tutte le persone che si erano arruinate sullo scoglio abbandonò al suo destino la Pencio e tornò verso Rodi che cosa fare però a questo punto con quegli uomini? era un bel problema inizialmente vennero piazzati in un campo di calcio con delle tende poi quando ci si rese conto che le condizioni non erano esattamente ottimali vennero spostati in un magazzino all'asciutto dove vennero lasciate in attesa di decidere cosa fare il governatore di allora Ettore Bastico in effetti pose ben presso il problema a Roma perché 500 bocche da sfamare in più per un'isola come Rodi che già si trovava ad avere grosse limitazioni di rifornimenti erano un grosso problema e quegli uomini e quelle donne non potevano essere tenuti lì per sempre ad un certo punto 5 di quegli uomini decisero di provare a fuggire di fuggire verso la Turchia per trovare scampo ma vennero intercettati dalle forze italiane due di loro morirono nel tentativo di fuga gli altri vennero portati in galera mentre si trovavano a Rodi poi ci fu anche una storia particolare cioè una ragazza originaria di Bratislava infatti si innamorò di un milite della milizia fascista incaricato di controllarli i due si innamorarono reciprocamente ma quando i superiori del milite lo vendono a sapere decisero di separare la coppia spedendo lui su un'altra isola insomma non proprio Romeo e Giulietta ma quasi ad ogni modo a quanto pare le stelle erano comunque dalla parte di questi poveracci poveracci che finalmente nel gennaio del 1941 iniziarono a lasciare Rodi per essere trasferiti in Italia il primo gruppo principalmente donne e bambini sarà spostato nel gennaio del 41 nel marzo tutti gli altri li seguiranno tranne i tre che erano ancora in galera dopo il tentativo di fuga che saranno invece spostati in Italia a ottobre dove finiranno queste 500 persone? beh, finiranno nel campo di Ferramonti di Tarsia dove arriveranno tutti quelli che erano partiti e questo è già strano perché all'epoca capitava purtroppo spesso che queste navi da trasporto venissero silurate e quindi affondassero insieme a coloro che portarono arrivarono tutti praticamente coloro che erano arrivati a Rodi tranne questo abbiamo le statistiche ufficiali tre anziani che erano morti in quei mesi i due che erano morti nel tentativo di fuga e una famiglia che avendo parenti a Rodi aveva deciso di fermarsi qua ma tutti gli altri saranno portati vicino a Cosenza a Ferramonti di Tarsia cos'era Ferramonti di Tarsia? era un campo un campo di internamento un campo dove venivano portati uomini donne che per qualche motivo dovevano essere separati dalla società talvolta erano prigionieri talvolta appunto erano ebrei che venivano spostati in questi campi un po' come succedeva appunto in Yugoslavia come abbiamo raccontato per decidere poi in futuro che cosa farne in realtà non venne presa nessuna decisione perché fino al 1943 tutti gli ebrei che erano stati trasportati rimarranno presso questo campo e avranno figli alcuni moriranno di anzianità altri addirittura si sposeranno insomma per due anni rimarranno lì confinati addirittura il primo bambino a nascere lo farà addirittura prima ancora di arrivare in Italia sulla nave che li stava portando lì e verrà battezzato pensate un po' ironia della sorte benito proprio in onore degli italiani che li avevano salvati alla fine nel 1943 nella fine di settembre del 1943 il campo sarà liberato dagli alleati che dopo l'8 settembre stavano risalendo la penisola e quello sarà il primo campo di internamento di ebrei ad essere liberato in tutta Europa purtroppo c'erano state altri due morti questa volta causati dagli alleati che durante un bombardamento in un vicino complesso industriale avevano fatto cadere una bomba anche sul campo uccidendo due persone ma alla fine nel ottobre del 1943 quasi tutte le persone che erano partite da Bratislava ce l'avevano fatta e dopo un viaggio che era durato quasi tre anni finalmente erano salve finalmente erano salve e la maggior parte di loro farà quello che in effetti avevano programmato di fare all'inizio perché tra le truppe che li liberavano c'erano anche dei volontari delle brigate ebraiche aggregate all'esercito inglese le quali ovviamente dopo aver discusso la cosa con i loro superiori inglesi li convinsero ad accettare che queste persone lasciassero l'Italia che comunque rimaneva zona di guerra e andassero così come era previsto in Palestina non lo faranno tutti alcune famiglie preferiranno rimanere altre invece quasi tutte quelle che erano rimaste nel 1945 lasceranno l'Italia e si sposteranno negli Stati Uniti insomma questa storia iniziata se vogliamo nel 1939 finalmente nel 1945 si chiuse era stato un viaggio incredibile avevano avuto avventure incredibili avevano erano stati fermati in mille momenti ma alla fine ce l'avevano fatta quasi come fosse una fiaba quasi nessuno di loro era morto e quasi tutti ce l'avevano fatta ad arrivare laddove volevano tutto questo sembra una fiaba sembra una storia e ogni so che qualcuno lo sta pensando che il finale di quello che vi sto per raccontare sia quello del film Trendevi in cui tutto quello che vi ho raccontato è in realtà un sogno e le cose non sono andate così e invece no e invece le cose sono veramente andate così perché in mezzo a tutto quell'orrore successo in Europa qualche storia fortunata qualche caso in cui qualcuno si salvò per merito per fortuna per l'aiuto di qualcun altro di qualche giusto bene qualche storia c'è in mezzo a tutto questo ma questo non vuol dire che queste persone l'orrore non l'abbiano sfiorato perché coloro che rimasero a Bratislava in massima parte morirono coloro che non furono così fortunati da salire sul pencio vennero catturati e di 15.000 ebrei che vivevano a Bratislava prima della guerra ne morirono nei campi di concentramento 10.000 quelle 70 persone che non riuscirono a salire sul pencio quando questo si trovava in Ungheria perché non arrivarono in tempo scomparvero nel nulla ed è facile pensare che siano ovviamente tutte morte vi ricordate quando passarono in Jugoslavia quando furono sul punto di essere portati in un campo di internamento bene gli ebrei che si trovavano in quel campo di internamento saranno catturati dai nazisti nel 1941 quando i nazisti occuperanno quel campo e nel 1941 saranno presi deportati e chi non sarà deportato sarà giustiziato sul posto nessuno di loro è sopravvissuto e se fossero stati portati lì probabilmente anche i 500 del pento avrebbero fatto la stessa fine gli ebrei rumeni quando Iolo Antonescu prese il potere iniziarono ad essere perseguitati esattamente come i tedeschi subirono violenze subirono deportazioni e se fossero stati fermati in Romania come il console inglese voleva forse avrebbero avuto la stessa sorte vi ricordate che una famiglia invece rimase a Rodi? bene quella famiglia è stata deportata ed è morta perché quando i tedeschi dopo l'8 settembre presero il controllo di Rodi quella famiglia così come tutti gli altri ebrei dell'isola vennero presi e deportati e morirono durante il viaggio o nei campi insomma tanti erano morti tanti intorno a loro avevano sperimentato l'orrore di quello che stava capitando ed erano morti e loro erano sopravvissuti raccontiamo queste storie andate bene per ricordarci che tante tantissime la maggior parte delle altre bene non sono andate quindi se vi capiterà magari sotto uno di questi video o in una discussione di sentire qualcuno che negando l'olocausto vi dirà che è falso perché nessuno ha cercato di fuggire voi se volete raccontategli la storia del pencio e ditegli che fortunati come quelli che salparono sul pencio purtroppo nell'Europa di quegli anni ce ne furono veramente pochi ad ogni modo io ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino in fondo a questa pillola ringrazio tantissimo Marco Sciarretta per il materiale che mi ha mandato mi scuso quasi con lui per tutti i mesi che ha atteso ma come faccio con tutti quelli che mi mandano del materiale purtroppo i tempi di attesa per la pubblicazione sono lunghi perché siete veramente tanti e i tempi le pidole che posso pubblicare sono quelle ma vi ringrazio veramente tantissimo del materiale niente viene dimenticato tutto viene messo da parte e prima o poi diventa una pillola se riusciamo a fare tutto questo lo dobbiamo ovviamente anche tanto a Patreon e abbonati e con il loro contributo ci aiutano a mandare avanti il canale e a portarvi sempre nuovo materiale oggi voglio ringraziare Jamma grazie mille per il tuo aiuto e grazie spero che continuerai a sostenerci a permetterci di andare avanti così per tutto il resto io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie talvolta terribili diciamolo chiaramente ma storie che nessun regista saprà mai avrà mai forse il coraggio di mettere nei loro film nei loro libri bene ripeto ve l'ho detto all'inizio su questa storia è stato girato un film non l'ho mai visto mi piacerebbe vederlo se riuscite a recuperarlo mi date qualche idea su come recuperarlo magari in futuro ne faremo una recensione per il resto se invece volete curiosare tra altre storie come questa in descrizione ho una playlist se volete andare a recuperare o altrimenti qui a fianco c'è l'elenco di tutte le pillole di storia uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao